Ben ritrovati a tutti da Stefania Cattaneo di Trebi Meteo, ci aspettiamo una nuova settimana pienamente invernale a causa dell'anticiclone che punterà direttamente alla Scandinavia pilotando correnti fredde dalla Russia sul Mediterraneo. Vedete che si formeranno delle basse pressioni, quindi tempo instabile e freddo al centro-sud, in particolare sulle regioni adriatiche Calabria e Isole Maggiori, dove tornerà a nevicare a quote collinari fino a tratti in pianura, tra la Romagna e l'Abruzzo. Nord invece, centrali tirreniche resteranno ai margini con tempo in prevalenza all'asciuto, anche se lì non si esclude qualche sorpresa da mercoledì in poi. In tutto questo le temperature saranno in generale caldo, specialmente sulle Alpi e ancora una volta sui versanti proprio adriatici. Per il momento da Trebi Meteo è tutto, restate aggiornati tramite la nostra applicazione sulla vostra località di interesse.